BUSTA SHOCK Finta BUSTA SHOCK, basta richiudila Con Filippo siamo amici, non è mai successo niente, ci siamo dati manco un bacio Beccate la BUSTA SHOCK, non ci abbiamo bisogno dei nardi per diventare contesse Barbara D'Urso, il personaggio televisivo più significativo del decennio Questi dieci anni ho fatto tante cose diverse, tantissime Da reality, da pomeriggio 5, cronaca, fiction Sono una comunque che si butta, che le mani impasta sempre Tutta la storia di Pamela Prati che poi ha trovato il culmine qua, proprio da te È partita da Dago Spia e noi, ovviamente, con tutti i nostri giornalisti Che conosci bene, abbiamo cercato di aprire questo enorme vaso di Pandora So di aver fatto ottimamente il mio lavoro, ma non io So di aver fatto la testata giornalistica di Mediaset, di Videonews Ha fatto un ottimo lavoro Pamela Prati fa le serate e sulla locandina c'è il logo di live E poi direttamente dal salotto di Barbara D'Urso Vado a fare questa serata, quindi è bizzarro, no? Prima no, adesso ti fa comodo Sono sempre quelli contro di me Io sono per la pace, peace and love Love non ce sta, almeno la pace 5, 6, 7 E saluta ma solta Ciao Chiudetemi il collegamento Chiudetemi il collegamento Chiudetemi il collegamento